Però, carino qua. Ci abiti da sola? No, come Nonna Maria. Nonna? Pronta. Ti ho portato i ragazzi che ti dicevo. Va bene. Adesso scappo che ho il treno per Milano, eh? Divenimo franomese. Ciao, raga. Divertitevi, eh? Ma è una gioia, oh! Trasipi! Così del morcio dove hai colcato? Scusa, aspetta un attimo, ma che fai? Ci lasci da soli con l'indigena? Trasipi! Trasimo, eh? Mi raccomando. Questa è casa mia. Uno me l'ha incinta e è muta. Perché non mi sento? Ha detto che qui possiamo invitare le ragazze più fighe di Scorrano. Una ce n'era e una se n'è andata. Qui mi corrigo io. Non la davo a cimenti se non mi ha dato fastidio. Qui ha detto che sono successe negli anni cose incredibili che, però, non può raccontare. Anche perché mi sa che ormai non se le ricorda, eh? Questa è stanza vostra. Potete fare video caoliti. No, qua non ci stanno dubbi. Questa è la stanza nostra. Mi hai letto con un formaggio e non ce l'ho mai andato finora. Però comunque... ... ... ... ... ... ... ... ...